Una piccola imbarcazione domenica pomeriggio si è capovolta nel tratto del fiume Brenta che passa per Limena in provincia di Padova. L'incidente è avvenuto tra l'inizio del canale Brentella e il ponte di via Manetti. A bordo un uomo che ha rischiato di morire. A salvarlo è stato un passante che ha visto la scena e non ha esitato a tuffarsi in acqua per riuscire a portare il naufrago a riva. Altre persone che assistevano alla scena hanno chiamato i numeri di emergenza. Tutti e due gli uomini sono andati in ipotermia e sono stati presi in cura dal personale del SUEM. L'imbarcazione è affondata per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco intervenuti anche con i sommozzatori di Venezia hanno recuperato la barca in alluminio e il serbatoio.